Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dio, nostro Padre, Tu hai dato ai Santi Marti Risolutore, Avventore, e Ottavio, la grazia di partecipare alla passione del Tuo Cristo. Vieni in aiuto alla nostra debolezza. Come essi non esitarono a morire per Te. Concedi anche a noi di vivere da forti della confessione del Tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno. Sia fatta la Tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santi Solutore, Abentore, e Ottavio, pregate per noi.